Hai un bel soffiare sulle candeline quando queste sono addirittura 100. Un secolo di vita, di storie da raccontare, di progetti futuri, un modo per ricordare cosa siamo stati e per immaginare cosa potremmo essere. Edison, proprio oggi, ha festeggiato i cent'anni della centrale idroelettrica Venina a Piateda. Questo è un patrimonio fondamentale. L'energia idroelettrica è l'unica energia rinnovabile, programmabile. Rispetto all'eolico e fotovoltaico, che sono intermittenti per natura, questo rappresenta un patrimonio strategico per il Paese. Quindi il futuro di questi impianti sarà ancora, per altri cent'anni, importantissimo. Qui si produce energia rinnovabile. Oggi la centrale è in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di 87.000 famiglie e ogni anno evita l'emissione di atmosfera di oltre 100.000 tonnellate di CO2. È la continuazione di una storia che, secondo me, non avrà mai fine. La Valtellina con il Venina ha avuto un ruolo centrale negli anni venti per aiutare l'Italia all'elettrificazione e allo sviluppo. Questa centrale e la Valtellina continueranno ad aiutare l'Italia nella transizione energetica per il futuro, per migliorare l'ambiente, per evitare le emissioni del gas serra e per migliorare la vita nostra e dei nostri figli. E poi c'è il tema del rinnovo delle concessioni idroelettriche. Noi in Lombardia siamo stati i grandi sostenitori della regionalizzazione per quanto riguarda le concessioni idroelettriche. Nel 2018 abbiamo modificato finalmente la legge. Entro l'anno ci saranno le prime gare, ma non mi piace molto il dibattito gara sì, gara no. A me interessa che il rinnovo delle concessioni lasci il dovuto sui territori in termini di proventi, che si produca in modo pulito, efficiente e quindi si dia un servizio a tutto il Paese, ma che ci siano ovviamente anche le giuste compensazioni. Così come in periodi di siccità, l'abbiamo riscontrato negli ultimi anni, in questo caso l'ente pubblico deve avere la facoltà che per interessi superiori si deve turbinare, non solo legando il tutto ai proventi o al guadagno economico, ma anche rispetto a interessi che sono pubblici, che sono superiori. Quindi tutte queste cose sono contenute nella legge regionale che abbiamo fatto e entro l'anno ci saranno le prime riassegnazioni. Questa centrale è un gioiello che unisce storia e tecnologia. Questo gruppo di impianti serviva addirittura ad alimentare le ciaierie della società Falc a Sesto San Giovanni. È una giornata importante per il territorio, per Piateda, perché sono cent'anni di una struttura degli impianti che costruirono fa cent'anni fa e che diedero una rivoluzione industriale per il nostro territorio. Si passò da un'economia di sostentamento agraria, agricola, ad una dove prevedeva chiaramente dei percorsi differenti. C'è stato quindi un cambiamento sia sociale sia economico. Manifestare oggi questo importante impianto è sicuramente significativo per Piateda come per tutto il territorio, questa parte di Orovie. E tanto altro ci sarebbe da dire per un impianto che lascia bocca aperta anche dal punto di vista architettonico. Un gioiello del quale la Valtellina può andare fiera.